Aumentare e razionalizzare i sistemi di raccolta differenziata degli imballaggi in carta e cartone con l'obiettivo di aiutare le amministrazioni comunali nella crescita della quantità e qualità dei rifiuti di imballaggio a base di cellulosa. Questo è lo scopo dell'accordo di durata triennale siglato a Palazzo Valentini dal Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti e il Direttore Generale di Comieco Carlo Montalbetti alla presenza dell'Assessore Provinciale all'Ambiente Michele Civita. Da anni il Comieco, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi in Carta e Cartone è attivo anche nel Lazio con buoni risultati nella raccolta di materiale differenziato. Il documento prevede la realizzazione di iniziative mirate e capillari di comunicazione con fronti ai cittadini, operatori e consumatori per sensibilizzarli sull'importanza del riciclo e dell'ambiente. Durante la conferenza il Presidente della Provincia Nicola Zingaretti ha confermato l'obiettivo strategico da raggiungere entro il 2012 quando la raccolta differenziata porta a porta nel territorio della provincia coinvolgerà un milione di abitanti. Il protocollo oggi con il Comieco si concentra ad esempio sulla carta e come è stato detto permetterà, se raddoppieremo la quantità di carta che raccogliamo oggi dai comuni, di raddoppiare le risorse economiche che arriveranno ai comuni. Quindi noi stiamo provando a fare nel campo dei rifiuti, che è molto complesso, il nostro dovere, che è quello di garantire la rivoluzione ecologica sulla differenziata che sta andando avanti. Previste sempre nel protocollo le cartoniadi, ovvero le olimpiadi organizzate da Comieco e che premiano con un fondo ai 40.000 euro il comune più virtuoso nella raccolta di carta e cartone. L'importanza sta nel fatto che l'industria cartaria è con la provincia di Roma pronta a dare una mano perché la raccolta differenziata di carta e cartone raddoppi. Già oggi la provincia di Roma, assieme a quella di Latina, ha i segnali positivi, quindi si sta andando avanti, ma si può fare sicuramente di più anche perché la domanda industriale di carta da macero delle cartiere che stanno nel Lazio, tra cui alcune proprio vicino a Roma, è di molto superiore all'offerta di materiale raccolto. Quindi abbiamo la possibilità davvero di chiudere il cerchio tra raccolta differenziata e uso industriale, sapendo che il consorzio, a fronte della raccolta dei comuni, da un corrispettivo, lo scorso anno per i comuni della provincia di Roma, escluso la capitale, è stato di circa 800.000 euro. Pensiamo che sia possibile raddoppiarlo, cioè portarlo a 1.600.000 euro nel corso di quest'anno. L'assessore Civita ha ricordato l'accordo con Roma Capitale e la Regione Lazio per avviare un monitoraggio ambientale sulla Valle Galeria e l'area di Malagrotta. I termini del protocollo di intesa, come ha ricordato Civita, hanno già ricevuto il via libera dell'aggiunta provinciale. Nelle prossime settimane credo che anche Roma Capitale e Regione approveranno analoghi accordi per essere in grado a settembre di poter utilizzare 3 milioni di euro per avviare il monitoraggio ambientale delle tre matrici acqua, suolo e aria su tutta la Valle Galeria.